Mario Carpino, nello stand Etelec di MEF, la fiera fiorentina sull'elettricità. Allora, come vi trovate qui? Molto bene, molto bene e aspettiamo gente, speriamo che ci sia affluenza nel corso della fiera. Ci sono molti visitatori, vero? Molti visitatori, già per cominciare, speriamo che ce ne siano di più fino a sabato. Anche al vostro stand, molta gente interessata ai vostri prodotti, che cosa in particolare ammirano della vostra produzione? Il nostro core business, la tecnologia gel, i nostri shark, i gel riempitivi, continuiamo a diffonderli, a farci conoscere. e sono in promozione, quindi la gente è interessata anche eventualmente a fare un po' di scorta dei prodotti che già utilizzano.